Vai, vai, vai! Dove sono Raymond e Danny? Ho visto che li ho presi lui! Non pensarci, guida più velocity che poi! Forse l'ho asseminato. Tu che dici? Credo di sì. Adesso siamo in salvo! No, siete tutto fuorché in salvo. Oh, 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 oh. Per chi lavorate? Per nessuno. Senti, noi abbiamo solo rubato il furgone e... Mentimi ancora e ti assicuro che l'incidente che hai appena subito sarà l'evento meno doloroso della tua serata. No, è vero, lo giuro su. Che cos'è quello? Il vostro carico. Si chiama Amazo. E si può sapere cos'è? È un androide altamente sofisticato in grado di assumere e riprodurre i poteri dei superumani. Che genere di superumani? I più potenti. Ha un bel pugno per essere un armadio sottosteroidi. Vuoi una mano? No. Ok, allora starò qui a guardare. E quello invece chi è? Il ragazzo con la calzamaglia. Quello è Nightwing. È stato il primo aiutante di Batman. Il primo Robin. Passerei all'artiglieria pesante. L'ho fatto. Secondo te è servito? Lo rallenterà. Ne sei sicuro? Portiamoci più in alto. Sapevi che può volare? Muoviti! Bruce, non mi offendo se mi dai qualche consiglio. Agli stessi punti deboli di un essere umano. Capito. Ora sentirei una lieve puntu... Ha anche i raggi laser. Non penso che della roba negli occhi lo fermerà. Ma l'esplosivo al plastico sì. Bella mossa.